Benvenuti al secondo appuntamento con questa nostra trasmissione Tantan Medicina che si occupa di approfondimenti medico-scientifici, di nuovi approcci terapeutici. Parliamo in questa puntata di PRP, ovvero gel piastrinico, delle sue applicazioni sia in ambito terapeutico che in ambito estetico. Con noi per parlarne ci sono la dottoressa Donatella Rizzitano, medico anestesista, specialista in terapia del dolore, nonché in agopuntura e molte altre cose che magari scopriremo strada facendo. Benvenuta dottoressa. Grazie. Ecco noi il dottor Walter Cassutti urologo e andrologo e diciamo che in quest'ultimo periodo si sta dedicando molto anche a quella che viene definita la medicina rigenerativa. Eh sì cari amici, perché se fino a qualche tempo fa eravamo abituati un po' tutti a quella che viene definita la medicina normale all'opatica e in realtà adesso ci si sta dedicando ad un tipo di approccio terapeutico un po' nuovo, innovativo, diverso. E tra questi c'è proprio la medicina rigenerativa. È vero dottor Cassutti? C'è una nuova frontiera diciamo che si sta affrontando, che si sta percorrendo per aprire un po' gli orizzonti verso altre soluzioni che non sia la medicina tradizionale. Certamente sì, innanzitutto colgo l'occasione per ringraziarvi dell'invito e dare la possibilità di far conoscere questo nuovo aspetto della medicina anche al grande pubblico. Penso che sia una cosa interessante ed importante da conoscere. Come lei ha detto all'inizio, da un po' di tempo a questa parte, forse la medicina tradizionale sta allargando un pochettino la propria ottica e sta rivolgendo l'attenzione a quelle che possono essere le possibilità anche insite all'interno dell'organismo umano per quanto riguarda la possibile terapia di alcune forme di patologie. È qui che nasce il concetto di medicina rigenerativa che veramente è una forma di medicina che è ancora molto giovane nasce a metà degli anni 90. Whitman è stato forse uno dei più attenti a questo tipo di possibilità terapeutiche tant'è vero che a metà degli anni 90 si è cominciato a parlare di cellule staminali di cellule mesenchimali che hanno la possibilità di trasformarsi in cellule ancora più differenziate e da questo poi pian piano si è aggiunta anche la scoperta di alcuni fattori che sono insiti in alcune strutture cellulari presenti nel sangue e che sembrerebbe possano agire come elementi che equaduano la trasformazione di queste cellule staminali. Dottoressa forse lei allora cominciamo a capire cercare di mettere un po' i connotati addosso a questo PRP o gel piastrinico perché nell'ultimo periodo devo dire che chi si interessa un po' di medicina rigenerativa ne sente parlare molto spesso sia per quello che riguarda dicevamo le sue applicazioni terapeutiche sia per quello che riguarda le applicazioni estetiche cos'è in realtà questo PRP sta per Platelet Rich Plasma cioè significa un plasma arricchito di piastrine che cosa sono le piastrine sono cellule presenti nel nostro sangue rappresentano il 4% quindi nel nostro sangue non esistono solo i globuli rossi che rappresentano il 95% i globuli bianchi che rappresentano l'1% abbiamo le piastrine che sono delle cellule meravigliose rappresentano il 4% che normalmente rappresentano l'elemento coagulativo del sangue sì in realtà io li chiamo come dei poliziotti in borghese cioè vanno in giro per il corpo e sorvegliano sorvegliano ecco soprattutto che non ci siano delle perdite di sangue come in rotture per esempio di vasi in ferite in ulcere vascolari in piaghe da decubito in ulcerazione anche di placche aterosclerotiche all'interno dei vasi loro si comportano come dei custodi e quindi nel momento in cui si rendono conto che c'è una da intervenire attivano la coagulazione appunto ma attivano anche una serie di processi riparativi per far sì appunto che l'emergenza termini e sono delle cellule meravigliose perché all'interno contengono tantissimi fattori di crescita è inutile elencarli con tutte le varie sigle strane basta sapere soltanto che sono dei fattori di crescita meravigliosi fattori di crescita che servono a stimolare le altre cellule che determinano la riparazione del tessuto come i fibroblasti a stimolare la produzione di collagene che serve per la guarigione sempre delle ulcere delle ferite ma anche per il viso ecco per stimolare il tono muscolare agiscono come questi fattori piastrinici come fattori che riducono l'infiammazione e quindi il dolore nella sede di lesione anche a livello articolare ma sono fattori anche che inducono la stimolazione della formazione di vasi la formazione del tessuto osseo la formazione del tessuto cartilaginio infatti le applicazioni del PRP sono veramente notevoli ecco in questo momento le applicazioni più comuni dottoressa del PRP quali sono? innanzitutto la traumatologia sportiva quindi per le lesioni le infiammazioni muscolari e tendine per i dolori acuti e cronici ecco che il tal calciatore ha avuto una lesione tendine o muscolare molto probabilmente diciamo un medico di medicina rigenerativa interviene anche con il PRP posso interrompere diciamo così rimettere in gioco il calciatore prima possibile con il minor danno possibile è un grosso risparmio di denaro dal punto di vista delle società calcistiche perché questo tipo di terapia riesce ad accelerare il recupero comprovatamente diciamo quindi è una cosa che si sta facendo e si fa a tutt'oggi cioè non è io volevo un attimo sottolineare quello che ha detto la dottoressa che secondo me è importantissimo il fatto che esistono questi fattori di crescita che fondamentalmente non sono altro che delle proteine specifiche che hanno quella specifica attività che hanno molteplici diciamo molteplici capacità di aiutare la trasformazione anche delle cellule mesenchimali tant'è vero che vengono usate in alcuni ambiti anche in associazione alla terapia con cellule mesenchimali oppure cellule staminali per cui con questo volevo dire che molto probabilmente non riusciamo nemmeno ancora a conoscere appieno quali sono le potenzialità della cellula piastrinica e soprattutto di questi granuli che contengono un numero veramente elevato di fattori di crescita ecco delle cellule staminali abbiamo sentito molto spesso parlare le cellule mesenchimali vogliamo dare una spiegazione in più le cellule mesenchimali sono una sorta di cellule staminali che si ritrovano con maggior frequenza nel tessuto adiposo nel tessuto osseo e che hanno come le cellule staminali che noi conosciamo da sempre la potenzialità appunto di trasformarsi in altre cellule differenziate come per esempio possono essere fibroblasti oppure cellule del tessuto osseo come gli osteoblasti oppure i fibroblasti che sono delle cellule ben definite e che hanno la capacità di contribuire alla formazione di tessuti ben precisi ecco noi stiamo parlando di tutto un ventaglio di scienza possiamo definirla sicuramente così che si sta aprendo negli ultimi anni per così dire e che via via mese dopo mese sta facendo dei grandissimi progressi ora ovviamente prima parlavamo delle applicazioni del PRP anche su attività specifiche professionali come quelle degli atleti ad esempio ma ovviamente se vogliamo alleggerire anche un po' la nostra mira possiamo dire che una delle applicazioni che a tutt'oggi sta avendo un grandissimo successo la possiamo avere anche per quello che riguarda la medicina estetica vero dottoressa? assolutamente sì è una metodica validissima consideriamo che è un trattamento naturale quindi non stiamo parlando di mettere nel viso sostanze estranee come possono essere anche gli acidi ialuronici seppur biocompatibili con degli ottimi risultati ovviamente ripeto quando uno si sottopone al gel piastrinico deve dare anche la possibilità al corpo di attivare tutti questi processi di rigenerazione consideriamo che dopo un'applicazione comunque il processo una volta innescado continua per 8-16 settimane ecco io a questo punto mi fermerei un attimo perché andiamo in un centro qui di Terni che sta facendo già diverse applicazioni da questo punto di vista con il dottor Marco Ballerini perché vorremmo chiedere qualcosa di più specifico su come si prepara poi questo gel piastrinico quindi linea al dottor Ballerini buonasera dal centro medico Demetra cercherò di illustrarvi quelle sono le caratteristiche che distinguono questo laboratorio che è finalizzato alla realizzazione di terapie cellulare avanzate o meglio ancora la medicina personalizzata cioè quella medicina che si basa sullo sfruttare le caratteristiche in ciascun soggetto per farne una terapia quella che vedete alle mie spalle è quella che viene definita cell factory quindi un laboratorio che ha delle caratteristiche tecniche che soggiace a delle normative specifiche proprio affinché possa essere utilizzata per produrre questo questo tipo di terapia qual è il nesso con il gel piastrinico il gel piastrinico è sempre nell'ambito della medicina rigenerativa e personalizzata però è una metodica che non soggiace a delle normative così ferre come quelle che noi siamo costretti ad adottare per tutto quello che riguarda appunto le terapie cellulari avanzate però comunque abbiamo voluto avendo una struttura a nostra disposizione di tale livello utilizzarla comunque per garantire uno standard di qualità del nostro gel piastrinico da infondere ai nostri pazienti in tutti i contesti patologici per cui la PRP o appunto gel piastrinico è indicato allora cominciamo quindi la descrizione la breve descrizione di quello che è la procedura per la produzione di gel piastrinico la cosa fondamentale è che questa sarà l'unica volta e l'ultima che del personale estraneo potrà entrare all'interno della self-hack perché una delle caratteristiche fondamentali che riguardano le procedure di legge peraltro a cui noi ci riferiamo è proprio quella che impedisce qualsiasi ingresso di personale ma anche di materiale che non sia controllato e che non rispetti una procedura che vi descriverò quest'area del laboratorio una volta che i colleghi hanno valutato il soggetto il paziente idoneo per una terapia con gel piastrinico viene fatta quella cosiddetta l'accettazione del campione cioè il prelevo di sangue viene codificato quindi gli viene dato un codice identificativo affinché da adesso in poi tutta la procedura possa essere rintracciata in tutte le sue fasi questo ha a sigillo di sicurezza e a garanzia di standard di qualità per il soggetto stesso andiamo ora nell'area del laboratorio destinata alla vestizione degli operatori una cosa fondamentale di questa zona del laboratorio è che l'area viene filtrata con un meccanismo particolare che la rende pura al 99,99% quindi per garantire quella sicurezza nelle preparazioni che appunto contraddistingue poi la possibilità di inoculare in tutta in tutta sicurezza appunto il gel piastrini o i prodotti cellulari fatti all'interno nel nostro nel nostro paziente questo è quello che viene definito passbox che significa è appunto un passaggio perché qualsiasi materiale che deve entrare all'interno del laboratorio questa zona del laboratorio non può seguire il percorso fatto dagli operatori ma viene inserito dall'esterno in questa scatola box e poi dall'interno in maniera assolutamente esterile l'operatore la prileva allora abbiamo ricevuto il nostro campione dall'esterno il nostro campione di sangue e cominciamo a questo punto il processo per la produzione del gel piastrinico quindi il nostro campione viene inserito in delle apposite provette all'interno di questa che si chiama K a flusso laminare è una una strumentazione che permette di lavorare in assoluta sterilità quindi qualsiasi movimentazione o qualsiasi processo che da adesso in poi andrà fatto dal semplice aprire una siringa o chiudere una provetta dovrà essere fatta all'interno di questa K e una volta inserito il sangue nell'apposita provetta questa viene trasferita in una centrifuga la centrifugazione è quel processo che serve a separare il plasma dai globuli rossi e all'interno del plasma sono contenute le piastrine quello che otteniamo quindi è un concentrato piastrinico perché avendo separato la parte rossa del sangue da quella bianca è intuitivo che all'interno di quella bianca avremo una concentrazione di piastrine molto superiore a quella che normalmente è contenuta nel sangue completo e si parla di 4-5 volte la concentrazione normale del sangue una volta ottenuto questo concentrato piastrinico il nostro obiettivo è quello di attivarla perché il ruolo e il beneficio che si trae dall'utilizzo delle piastrine è proprio quello del rilascio dei fattori cosiddetti di crescita proprio di queste cellule le piastrine e quindi tutti gli effetti di rigenerazione tessutale di rivascularizzazione di modulazione dal punto di vista dell'infiammatorio sono dovuti proprio a questo tipo di proteine che vengono rilasciate dalle piastrine l'attivazione viene fatta ancora una volta sotto K come viene fatta il concentrato piastrinico viene addizionato ad alcune sostanze quella utilizzata più comunemente il cosiddetto calcio gluconato che permette appunto il rilascio dei famosi fattori di crescita a questo punto le piastrine così attivate vengono immediatamente fatte uscire dal laboratorio con la stessa procedura sempre con l'obiettivo di garantire l'assoluta sterilità e sicurezza del prodotto finito per essere inoculate nel paziente a seconda del contesto patologico in cui verranno utilizzati quindi nel patologia osteoarticolari nella traumatologia sportiva nella medicina estetica e come tutte quelle indicazioni che sono conosciute per la PRP questo è tutto per quello che riguarda la produzione di gel piastrinico un saluto dal Centonemetra e arrivederci per prossimi aggiornamenti in questo campo Dottor Walter Cassutti abbiamo visto dunque insieme al Dottor Ballerini che ci ha spiegato un po' di più del gel piastrinico PRP come si prepara poi questo composto vorrei dire con orgoglio che voi già qui a Terni siete operativi vogliamo parlare del vostro centro anche il nostro centro è sito in via Cardeto numero 61 attua questa metodica nuova per forse per la città che si basa proprio sulla produzione di questo gel piastrinico usando il sangue proprio della persona quindi è diciamo così un prelievo autologo e sarà una reinfusione di sostanze autologhe questa è la grossa diciamo importanza e forse l'avanzamento rispetto a quello che diceva prima la dottoressa dal punto di vista delle terapie con acido ialuronico con aminoacido innanzitutto ci sono rischi diciamo infettivi perché il sangue è il proprio quindi se si ha già una patologia infettiva uno se la tiene ma non c'è il rischio di contrarla da un'altra persona né il rischio di allergie né il rischio di infezioni non c'è nessun tipo di rischio poi magari dalla dottoressa ci facciamo spiegare quali possono essere magari le controindicazioni per quanto riguarda perché esistono no dottoressa delle piccole controindicazioni per quanto riguarda la somministrazione di questo gel piastrinico però in linea di massima è una sostanza che proviene dallo stesso organismo che poi la riceverà quindi certo allora chiediamo quali sono le controindicazioni chi è che evidentemente non può fare questo tipo di trattamento sì prima però di parlare delle controindicazioni mi permetto ecco di sottolineare che la metodica di preparazione che viene usata nel centro di via cardeto è un po' diversa da quella classicamente utilizzata anche perché è necessario spiegare il motivo perché in genere si facevano un prelievo di sangue veniva appositamente preparato depositato conservato e poi applicato di nuovo alla persona in questo caso invece no abbiamo preferito secondo le ultime linee guida e anche gli ultimi articoli scientifici che documentano che il gel piastrinico perde di efficacia dopo 30 minuti dalla sua centrifugazione quindi fare un prelievo quindi si prepara questo sangue attraverso la centrifugazione attraverso l'attivazione delle piastrine con calcio cloruro o calcio gluconato che è un fattore tra l'altro presente nel nostro corpo è naturale anche quello è naturale anche quello è naturale e assolutamente non non dà possibilità di allergie e quindi di utilizzarlo subito in modo tale da avere una concentrazione piastrinica veramente alta e veramente efficace e le controindicazioni per tornare allora innanzitutto c'è un limite di età in teoria fino a 80 anni è vero anche che bisogna vedere la qualità di vita della persona quindi c'è caso è caso diciamo esatto ci sono comunque dei casi e ad ogni modo diciamo questo per ottenere l'effetto rigenerativo mentre come effetto antinfiammatorio si può anche somministrare in persone di età maggiore di 80 anni assolutamente sì poi bisogna stare un pochino attenti a determinati farmaci ecco se la persona per esempio fa uso di cardiospirina o di anticoagulanti o di antinfiammatori quindi stiamo parlando già non di un uso saltuario degli antinfiammatori ma di un uso costante per dire una settimana 10 giorni anche tutti i giorni come qualche volta mi è anche capitato allora in quel caso bisogna far sospendere cortisonici ad esempio cortisonici anche anche una contraddicazione non assoluta nel senso che si sospendono e dopo una settimana si può fare il trattamento persone ecco che fanno uso di anticoagulanti o di antiaggreganti seri tipo il cumadin per esatto il cumadin il sintrom oppure i nuovi anticoagulanti come il plavix eccetera allora in quel caso attenzione alle prove di coagulazione l'nr pt ptt eccetera allora il dottor Cassuti devo dire che ha una folta capigliatura e mi verrebbe da dire ma perché lei ha provato su se stesso il gel piastrinico del vostro centro oppure in realtà è tutta necicura perché calvo prima adesso hai raccontato in realtà questa butade vuole arrivare al fatto che il gel piastrinico il PRP ha come altra applicazione anche quella della ricrescita del capello dei capelli è così dottore esatto questo è un'altra frontiera dal punto di vista terapeutico che riesce a raggiungere il gel piastrinico ovviamente diciamo questo è un grosso vantaggio perché coloro che soffrono di alopecia androgenica che è il tipico diradamento dei capelli nel periodo che avanza ed è dovuto proprio al calo del testosterone che è fisiologico e che quindi si manifesta abbastanza normalmente in tutti diciamo che questo tipo di problema può essere risolto fino a ieri veniva risolto in parte con l'uso di farmaci tipo la finasteride che come sappiamo avevano dei grossi effetti collaterali per quanto riguarda la potenza sessuale oggi forse si è con il gel piastrinico fatto un passo in avanti in questo senso perché delle applicazioni reiterate ovviamente di gel piastrinico permettono la ricrescita del capello la rivitalizzazione del burbo del burbo filifero questa è la grossa diciamo così importanza dottore c'è un limite di intervento mi spiego cioè una persona completamente calva o giù di lì da molti anni può comunque fare un tentativo oppure c'è ripeto un limite nell'indicazione terapeutica io rispondo per quello che so io perché non è mio campo e poi facciamo intervenire la dottoressa Rizzitano sì ovviamente penso che l'estensione della calvizie è importante abbia la sua importanza dal punto di vista se non altro del trattamento e della riuscita poi so che ultimamente in Brasile stanno tentando di associare il trapianto di capelli con il PRP proprio per aumentare il successo e l'estensione della capacità di risoluzione di questo tipo di metodica poi la dottoressa è molto più ferata dottoressa prego a lei dunque per in particolare è ovvio che una persona completamente calva non non si sottopone a questo trattamento di PRP la PRP è indicata nei casi di alopecia androgenetica quindi alcune aree nell'alopecia areata anche nelle donne se per esempio un'alopecia da stress ecco in questi casi da sola la PRP oppure anche associata ad una fotostimolazione con luce laser o con led ha dei discreti risultati risultati certo non ci dobbiamo aspettare una volta capigliatura nell'arco di tre mesi magari in questo caso sono richieste più applicazioni mensili però ecco i risultati ci sono ci sono un'altra cosa che volevo chiedere le dottoressa Rizzitano a proposito dei capelli di cui stiamo parlando in questo momento la rapidità di intervento può avere diciamo un maggiore esito finale certamente sì perché rimane la vascularizzazione del cuoio capelluto e quindi non dobbiamo andare a stimolare la vascularizzazione la formazione di nuovi vasi con il gel piastrinico è logico prima si interviene e anche sulle cause ovviamente sistemiche generali e meglio abbiamo rimenticato qualcosa di importante per raggiungere una cosa perché lei ha toccato un argomento fondamentale che abbiamo considerato anche direttamente nel nostro centro c'è proprio una carenza di vascularizzazione a livello del cuoio capelluto e questa si può notare negli interventi successivi perché il cuoio capelluto sanguina di più successivamente quindi vuol dire che c'è una stimolazione appunto dei vasi poi ricordiamo anche l'applicazione una delle applicazioni principali del PRP sono i dolori articolari delle persone anziane quindi artrosi ginocchia ormai dottoressa sono anche le persone giovani che hanno tanti dolori articolari e questo purtroppo è dovuto a una vita i giovani rispondono meravigliosamente bene molto più velocemente ovviamente certamente quindi dolori articolari spieghiamo anche facciamo qualche esempio così per far capire a chi ci guarda quali possono essere ho un dolore per esempio al ginocchio il ginocchio esatto chiaramente va verificato che non ci sia un danno tipo una rottura di un legamento crociato perché allora l'intervento è tutto esatto quindi è necessaria sempre una visita l'esame obiettivo e quindi la clinica viene sempre al primo posto e dopo di che magari si può corredare la cartella clinica con degli esami diagnostici di approfondimento che possono essere non solo le radiografie ancora di più la risonanza magnetica in modo tale da valutare lo stato effettivo dell'articolazione se c'è versamento se c'è lesione di tendine nel caso del ginocchio problemi ai legamenti crociati e dopo di che improntare appunto un piano terapeutico con la PRP ecco io ho fatto l'esempio del ginocchio però possono essere le anche la spalla le tendiniti i dolori di artrosi anche alle mani ai polsi cervicale no lì parliamo di un altro ambito esatto lì poi parleremo della scrambler therapy questo macchinario nuovo che in modo non invasivo risolve il dolore neuropatico e fa parte della medicina del futuro e allora ci diamo un nuovo appuntamento per parlare di questa medicina del futuro perché come l'ha chiamata? scrambler therapy ci dia solo un mio accenno così diamo un po' è curioso scrambler therapy scrambler significa confondere quindi diciamo quando ci sono dolori neuropatici il classico esempio di lombosciatalgia il corpo manda dei segnali al cervello e con questa macchina in modo non invasivo attraverso degli elettrodi banalissimi che vengono applicati all'esterno uno invia dei segnali che vanno a coprire questi segnali di dolore per cui al cervello arriva questa informazione nel corpo non ci sta più dolore e noi rieduchiamo le cellule nervose coinvolte in questi circuiti di dolore di trasmissione del dolore vale la pena sicuramente un prossimo approfondimento sulla questione relativa alla terapia del dolore e allo Scrambler Therapy di cui stava parlando la dottoressa e che mi sembra davvero molto molto interessante dottor Cassutti intanto le devo fare i complimenti perché la nostra città Terni si sta attivando anche su nuove frontiere per così dire attraverso il vostro centro che ha già un nome sì sì Demetra Demetra noi abbiamo diciamo una mente abbastanza aperta da questo punto di vista qui io io so che state lavorando anche su altre cose però per il momento non so se altre cose mi autorizza a parlarne diciamo ancora ecco però vi assicuro che sono molto interessanti molto importanti e si parla lì di problematiche molto serie e anche di salute giusto? sì non anticipiamo nulla perché nel momento in cui partirete con altri ambiti non sia un argomento serio assolutamente risolve delle problematiche importanti però qui il discorso pesa molto di più perché l'argomento è più più pesante più importante bene allora per chiudere dottoressa Donatella Rizzitano cerchiamo di concludere dicendo cosa aspettarsi dal PRP da questa terapia e diciamo qualche altra cosa che non c'è sfuggita fino ad ora se c'è sfuggita la classica domanda a piacere da parecchio che non me la facevano la domanda a piacere è bellissima fantastica e allora cosa aspettarsi dalla PRP è una terapia naturale non facciamo uso di farmaci non ci dobbiamo aspettare un risultato immediato come se io facessi un antidolorifico dobbiamo avere pazienza il dolore lo possiamo controllare in un altro modo essere certi che nel momento in cui ho fatto l'applicazione con la PRP dobbiamo aspettare abbiamo un tempo di latenza di otto settimane ecco in queste otto settimane il nostro corpo stimolato attiva tutti i suoi sistemi tutti i meccanismi di riparazione di rigenerazione dottoressa chi si aspetta diciamo che alla prima applicazione ci sia il miracolo sparisce il dolore no dipende poi ovviamente da caso a caso la questione è soggettiva i soggetti giovani rispondono immediatamente però essendo una terapia che attiva i meccanismi autologhi autologhi un po' di tempo il concetto è questo non è la sostanza chimica non è la sostanza chimica io faccio un'iniezione e subito mi risolvo oppure faccio l'infiltrazione con il fortisone nell'articolazione che tra l'altro è anche dannoso tra parentesi che si fa soltanto nei casi estremi di estremo dolore ecco non è così la PRT è più è più lenta ecco però i risultati ci sono gli effetti si vedono assolutamente sono più durature non c'è dubbio come diceva giustamente la dottoressa Rizzitano poi in realtà in anni trascorsi si facevano a livello anche di articolazioni le iniezioni di cortisone continuano a essere fatte continuano a essere fatte ecco hanno un effetto se non mi ricordo male dottoressa mi corregga per i miei studi così di appassionata hanno effetto anche di seccare le cartilagini esatto di danno ulteriore esatto perché è un effetto antinfiammatorio e immediato e anche antidolorifico ovviamente però e poi abbiamo un danno ulteriore sulla cartilagine volevo fare una domanda io alla dottoressa per chiarire un punto a proposito della necessità e della velocità del risultato siccome la persona che ha dolore vuole anche il risultato abbastanza celermente che ne pensa dell'associazione acido ialuronico e PRP per esempio nel dolore del ginocchio o dell'articolazione della spalla allora l'acido ialuronico per definizione è un acido quindi ha un pH di 7,2 poco più di 7,2 le piastrine invece sono abituate a stare in un ambiente neutro ha un pH 7,4 quindi l'associazione nella stessa seduta io non trovo indicazione mentre magari ecco per attutire e attenuare il dolore si può fare una iniezione di acido ialuronico se parliamo di un dolore articolare altrimenti possiamo associare benissimo una mesoterapia fantastica perché sono farmaci tradizionali che vengono usati in modo molto diluito e localmente dove servono quindi non è la compressa che si prende per bocca deve fare il giro di tutto il corpo cioè passare per lo stomaco l'intestino essere digerita essere assorbita dal fegato eliminata dal rene e praticamente nella sede di lesione arriva molto poco e comunque l'uso dell'uno non esclude l'altro no assolutamente no perché magari si può nel caso appunto dei dolori articolari fare una somministrazione di acido ialuronico e poi ecco dopo attenuato il dolore si può pensare alla PRP io mi auguro però che questo è un sogno posso parlare esterniamolo in modo futuristico riusciamo una volta fatto il prelievo di sangue a isolare quelle sostanze quelle citochine pro infiammatori di modo tale da mandare solo quelle anti infiammatorie quindi in quel caso risolveremo il dolore anche seduta a stante quindi dottoressa ci sono delle nuove frontiere direi di sì diciamo che ancora anche relativamente al PRP o comunque al gel piastrinico ci sono altre scoperte da fare altre possibilità la vocazione anche di questo centro che nasce la Demetra e sviluppare nuove metodiche o affinarle quindi questo è un aspetto che mi piace e forse trovare anche altre indicazioni altre indicazioni certamente perché poi la volta scorsa parlavamo di come venne scoperto quasi casualmente la Fleming l'antibiotico in realtà molte cose in medicina vengono scoperte o altre indicazioni vengono così individuate un po' casualmente un po' per intuizioni no dottor Cassutti quindi sicuramente anche perché io credo e non so se la dottoressa è d'accordo credo che il gel piastrinico forse non è usato al massimo delle sue possibilità ancora quindi dobbiamo imparare magari ad usarlo ancora meglio di come lo stiamo usando adesso e quindi usandolo continuamente scopriremo altre magari possibilità di migliorare l'effetto pure credo certamente perché fino ad ora manca uno standard di preparazione perché ripeto in un centro noto in Umbria e veniva fatto un prelievo anche con spico di sangue e poi bisognava aspettare lì diverso tempo perché doveva essere trattato eccetera però a questo punto faccio sempre il paragone di una sacca di sangue un conto se io faccio trasfondo ad una persona una sacca di sangue che è stata prelevata in giornata un conto trasfondo una sacca di sangue che sta in emoteca seppure l'emoteca sia ben controllata la temperatura è adeguata ci sono tutti i criteri gli standard e requisiti esatti dell'emoteca e vado a rinfondere questo sangue di una settimana quindi mi fa solo volume nel trattare e quindi nel rinfondere è fondamentale ci sono le nuove linee guida della società americana di ortopedia e sta seguendo questa metodica poi ripeto ci sono degli studi che documentano proprio proprio questo cioè abbiamo una riduzione dell'attività dei fattori piastrinici dopo mezz'ora dal prelevamento perché i meccanismi che si innescano sono talmente delicati e talmente labili che se la piastrina viene usata subito ha un effetto se invece viene congelata e poi dopo attivata preservata poi attivata non ha lo stesso effetto perché per quanto ripeto siano biocompatibili le provette le sacche gli anticoagulanti eccetera non è mai come l'ambiente naturale del nostro corpo quindi le piastrine non si trovano come nel nostro sangue quindi diciamo più velocemente e delicatamente vengono trattate più efficace hanno io devo dire che so che tra l'altro adesso non facciamo nomi ma alcuni dei vostri pregevolissimi collaboratori stanno già sperimentando vero? non facciamo nomi però insomma come dire è un'ulteriore prova di della grande garanzia che si offre di qualità nello sperimentare su se stessi una terapia ovviamente non tutte quante andranno in porto perché magari qualcuna si rivederà anche fallace però idee ce ne stanno e circolano tra tutti i componenti lo staff quindi speriamo bene dottoressa Rizzitano allora un'altra delle applicazioni importanti di cui non abbiamo ancora parlato è quella odontoiatrica è così? certamente sì ci sono diverse patologie odontoiatriche che possono essere trattate si avvalgono anche del contributo del gel piastrinico e poi ricordiamo un altro importantissimo campo di applicazione è quello di accelerare le guarigioni delle ulcere vascolari delle piaghe da decubito soprattutto nei soggetti diabetici che sono appunto quelli più a rischio di di tade problematiche ecco delle piaghe faccio parlare tra pochissimo il dottor Cassutti però a proposito dei problemi odontoiatici possiamo fare un esempio per capire a quale delle applicazioni nelle periodontiti e poi anche per accelerare i processi di guarigione di formazione del tessuto osseo oltre diciamo al tessuto osseo sintetico che viene utilizzato può essere appunto accelerato questo processo di rigenerazione usando il gel piastrinico dottor Cassutti purtroppo le piaghe da decubito sono abbastanza comuni soprattutto in diverse patologie come diceva la dottoressa nei diabetici è un problema che a volte sembra minoritario ma non lo è assolutamente purtroppo no ed è un grosso problema che riguarda non solo i diabetici ma anche parecchie persone che sono obbligate dalla posizione subina sul letto oppure nella sedia a rotelle eccetera e attualmente non esiste una terapia che possa risolvere completamente il problema della piagata del decubito ci si affanna continuamente l'abbiamo fatto per anni noi con la terapia chirurgica che si limita alla recentazione dei margini quindi a far sanguinare in pratica i margini intorno alla piaga ma in realtà poi la possibilità di guadagnare tessuto neoformato è veramente poca anche perché sono molto spesso soggette a fenomeni di infiammazione di infezione quindi diciamo che è un grosso problema forse non so se la dottoressa è d'accordo con me la recentazione chirurgica dei margini della piaga associata all'applicazione del gel piastrinico che attiva ancora di più la circolazione la formazione di tessuto riparativo potrebbe costituire certamente sì quel requisito fondamentale è la detersione della lesione della piaga dell'ulcera e poi dell'applicazione del gel piastrinico potrebbe essere un'arma in più che abbiamo bene abbiamo detto molto delle applicazioni abbiamo prima parlato delle articolazioni dei problemi legati ai tendini quindi anche tutti quelli che riguardano le persone comuni ma anche agli atleti abbiamo parlato della ricrescita dei capelli delle applicazioni odontoiatriche delle applicazioni estetiche anche per diciamo ritirare sul tono quando qualche anno in più purtroppo non ci agevola da questo punto di vista le piaghe da decubito ne abbiamo parlato poco fa insomma tante le frontiere che ci accingiamo a scoprire tra le altre cose perché queste sono le applicazioni al momento attuate e note ma come dicevamo ce ne sono tante altre che il divenire della scienza e degli studi ci sottoporranno e scopriremo via via quindi io per il momento vi ringrazio di nuove frontiere della medicina rigenerativa e di altre caratteristiche che non riguardano la medicina tradizionale di altri studi parleremo magari in prossimi appuntamenti per ora ringrazio davvero di cuore la dottoressa Donatella Rizzitano di essere stata in nostra compagnia grazie a voi grazie al dottor Walter Cassutti grazie all'invito un ringraziamento anche al dottor Marco Ballerini che ci ha coadjuvato in loco dal centro e grazie a tutti voi che ci avete seguito in questo appuntamento di Tantam Medicina e alla prossima arrivederci a tutti grazie a tutti